un video della terza parte della storia alternativa della seconda guerra mondiale e cominciamo ehi ragazzi che ne dite di far tornare l'unione di Kallamar? per me va bene, l'unione sovietica è un grosso proericolo per noi beh non ho altra scelta, nel resto di Europa sta succedendo un casino quindi mi va bene a condizione che però tu svezzo non ti ribellerai come hai fatto con la prima unione di Kallamar e va bene non mi ribellerò lo giuro Estonia che ne dici di entrare anche tu? hanno un popolo insignificante ma a condizione che farete entrare anche mio fratello la Lettonia purtroppo la Lituonia è caduta noi siamo è meglio, va benissimo ehi fratello Lettonia che ne vuoi entrare anche tu nella confederazione dell'unione di Kallamar? e se finalmente nasce l'unione di Kallamar compresa nel frattempo rivale conquista Malta, l'unione italiana e albanese beh adesso, adesso unione di Kallamar, dammi immediatamente la Finlandia ma assolutamente no, te la scordi, i finlandesi sono nell'unione di Kallamar, mai nella vita così potrò liberare anche delle regioni che si parla finlandese, c'è la cultura svedese e norvegese allora è guerra, ma toccherò non con tutte le mie truppe ah ragazzi, comunque prima di dire questo, volevo dire che non metterò tutta la Russia, metterò le parti che confinano perché ci metterai una vita se no, del fronte comunque la Russia inizia un avanzato in Finlandia respingendo le armate inizia d'entrarsi in Estonia e in Lettonia ma l'unione di Kallamar si rivela forte il suo asso nella manca prendeva in giro la Russia l'unione sovietica da fastidio prendeva in giro l'unione sovietica infatti passa passa conquistare i territori dell'Urssia l'unione sovietica vedendo la situazione ma non vuole arrendersi vuole continuare a lottare i territori presi ma a un certo punto l'unione di Kallamar e dell'armistizio i russi accettano ok ok hai vinto tu basta prenditi tutto quello che vuoi ah finalmente eh 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 si ragazzi che ne dite di conquistare la Spagna e nascerà una nuova Spagna in che senso? spiegati meglio forse ho capito anziché fare una Spagna comunista nascerà una Spagna nazista esatto confederazione polacco lituone che cosa ne pensate? e va benissimo avremo un altro alleato solo che sarà fantoccio per me va bene perché comunque siamo un alleato in più inizia l'operazione e così avanzano la Francia scusate ho sbagliato la Francia passa sui territori e la Spagna riesce a respingere un attimino e riconquista Barcellona e quindi francese si arriva i loro spagnoli riconquistano il Barcellona ma la Spagna succede una cosa edo ma per favore non mi fate niente vi prego vi scongiuro tranquilla non ti divideremo ma nasceremo una nuova Spagna in che senso? no, no, ti prego addio eccomi mi chiamerò Spagna fascista eccomi qua ah 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 e adesso attaccheremo la Jugoslavia ma ci può essere un errore? no, no, vi prego no l'attacco alla Jugoslavia nel prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti